ciao sono il dottor max in questo video ti spiego come prevenire le malattie cardiovascolari la prevenzione delle malattie cardiovascolari è fondamentale per mantenere una buona salute del cuore dei vasi sanguigni ecco alcune strategie chiave per prevenire le malattie cardiovascolari adotta una dieta sana mangia una dieta equilibrata ricca di frutta verdura cereali integrali proteine magre grassi sani limita il consumo di cibi ad alto contenuto di grassi saturi zuccheri aggiunti e sale mantieni un peso corporeo salutare il sovrappeso e l'obesità aumentano il rischio di malattie cardiovascolari mantenere un peso corporeo sano attraverso una dieta equilibrata e l'esercizio fisico regolare è importante esercizio fisico l'attività fisica regolare è fondamentale per la salute cardiovascolare cerca di fare al meno 150 minuti di attività aerobica moderata o 75 minuti di attività intensa ogni settimana puoi fare camminate veloci nuotare correre o fare qualsiasi altra attività che ti piaccia smetti di fumare il fumo di tabacco è uno dei principali fattori di rischio per le malattie cardiovascolari lascia il tabacco e cerca il supporto necessario per smettere di fumare limita il consumo di alcol il consumo eccessivo di alcol può contribuire alle malattie cardiovascolari limita l'assunzione di alcoli bevi con moderazione controllo della pressione sanguigna misura regolarmente la pressione sanguigna e cerca di mantenerla entro i limiti consigliati dal tuo medico se hai l'ipertensione segui il piano di trattamento raccomandato controllo del colesterolo monitora i livelli di colesterolo nel sangue e fai il possibile per mantenerli entro i limiti consigliati dal medico la dieta l'esercizio fisico e in alcuni casi i farmaci possono aiutare a controllare il colesterolo controllo del diabete se hai il diabete mantieni un buon controllo della glicemia il diabete è un fattore di rischio significativo per le malattie cardiovascolari gestione dello stress trova modi per gestire lo stress che può influire negativamente sulla salute del cuore la meditazione lo yoga la respirazione profonda e l'esercizio fisico possono aiutare a ridurre lo stress visite mediche regolari fai visite mediche regolari per monitorare la tua salute cardiovascolare il medico può eseguire test di screening e consigliarti su come mantenere un cuore sano limita l'assunzione di grassi saturi e trans riduce il consumo di grassi saturi e trans che possono aumentare il rischio di malattie cardiovascolari legge attentamente le etichette alimentari per evitare alimenti ad alto contenuto di questi grassi promuovi uno stile di vita attivo oltre all'esercizio programmato cerca di essere attivo nella vita quotidiana ad esempio scegli le scale invece dell'ascensore e cammina invece di usare l'auto per brevi spostamenti ricorda che la prevenzione delle malattie cardiovascolari è un impegno a lungo termine è importante adottare uno stile di vita sano e seguire le raccomandazioni del medico per mantenere il cuore in salute consulta sempre un professionista sanitario per una valutazione individuale e per sviluppare un piano di prevenzione adatto alle tue esigenze grazie per avermi seguito fino a qui spero di esserti stato utile iscriviti al canale e metti un mi piace a questo video che puoi commentare raccontando le tue esperienze offrendo un servizio utile alla comunità buon proseguimento ci vediamo alla prossima domanda esaminata